amici di youtube ben trovati a marco liguori è morto nelle scorse ore all'età record il grande orgoglio italiano stiamo parlando di un personaggio che ha fatto la storia e l'imprenditoria italiana e prima di saperne di più vi ricordo che a 200 mi piace pubblicherò immediatamente un nuovo video l'italia è a lutto nelle scorse ore a 99 anni e mancato il grande imprenditore francesco merloni era il presidente onorario di ariston group e ha perso la vita nella sua abitazione a fabriano nelle marche come detto francesco merloni ci ha lasciato a quasi un secolo ricordiamo un grande dell'imprenditoria italiana che possa riposare in pace amici di youtube io vi ringrazio per l'attenzione lasciate il vostro commento iscrivetevi al canale condividete questo video seguitemi anche sul primo canale di marco liguori il canale principale seguitemi anche sul nuovo canale marco liguori psicologia e crescita personale ciao a tutti